Finalmente possono partire i lavori per il nuovo Ponte Belvedere, lungaggini, intoppi e ritardi per questa controversa opera, ma ora con l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, i lavori possono finalmente iniziare. Questo dopo il parere positivo emesso dalla società che si è occupata della verifica del progetto, verificandone appunto la correttezza consentendo agli uffici tecnici comunali di effettuare le ultime procedure per terminare l'iter progettuale. La fase tecnica amministrativa è stata molto complessa. Sono stati necessari anche ulteriori approfondimenti. Ha ricostruito il vice sindaco Raffaele Daniele che si è occupato di tutta la faccenda. Tecnicamente il via libera al progetto esecutivo consentirà alle imprese che si sono aggiudicate l'appalto di iniziare il cantiere per la costruzione del ponte, che oltre a ricuscire una parte del tessuto urbano rappresenterà anche un'ulteriore possibilità per la città in termini di mobilità. I lavori saranno eseguiti dal racgruppamento temporaneo di imprese formato da due aziende locali, Tadei e d'Ima, mentre alla progettazione hanno concorso l'architetto Luca Carosi con la partecipazione dello strutturista ingegnere Fausto Fracassi, lavori che dovrebbero durare un paio d'anni. Il lavoro, prima del montaggio del ponte che è costruito altrove e sarà installato poi, è stato molto complesso. Demolizione, opera di cemento armato, muro di contenimento su via Persichetti. Attorno a quest'opera ci sono state tante polemiche proprio per i ritardi, soprattutto da parte delle opposizioni che di recente avevano lamentato anche un vertiginoso aumento di costi. Fatto sta che la città attende da 14 anni di infrastruttura, che cambierà pure lo skyline della città.